L'autismo è sicuramente una condizione che dal punto di vista clinico è caratterizzato da delle inabilità del bambino a svolgere delle attività. È chiaro che di fronte a delle discipline sportive che richiedono una certa attenzione, una coordinazione, un bambino autistico può sicuramente avere delle difficoltà. Oltre ad avere dei benefici fisici sulla coordinazione del bambino nello sport, ha sicuramente un beneficio sociale. Apre le porte ad un mondo che un bambino autistico potrebbe non vivere mai se non inserito in un contesto sociale e sportivo. Permette appunto un contatto diverso con bambini che non hanno, a differenza del bambino autistico, delle disabilità fisiche. Quindi potrebbe promuovere dell'inclusione, dell'interazione con altri bambini e anche con adulti e tecnici che in qualche modo sviluppano delle attività sociali e fisiche dello stesso.